Questa è l'ottavo di una serie di video relative alla ricerca su cosa insegna Sai Baba sul bene e sul male. Questa ricerca è fatta in modo tale da seguire un filo logico con le mie parole, risultato della riflessione su quanto avviene oggi, intervallate a conferma, principalmente da insegnamenti che ci sono stati dati dalla forma divina di Sai Baba in discorsi pubblici fino all'aprile 2011. Essa tiene conto di tutte le obiezioni che mi sono state fatte da seguaci di falsi guru e falsi avatar, a cui ho cercato di rispondere con la parola di Sai Baba, e in particolare in questo capitolo si sofferma sul fenomeno di Mudenalli, che ho studiato più approfonditamente. È importante, per riuscire a comprendere al meglio le considerazioni fatte, aver visto i video precedenti relativi allo stesso capitolo e argomento. Desidero precisare che l'intenzione di questo lavoro non è il giudizio negativo e non è la critica, ma l'aiutare i fratelli che si sono smarriti riportandoli alla parola di Dio. Sai Baba ci aveva avvisati delle prove a cui sarebbero stati sottoposti i suoi devoti, ma contemporaneamente ci aveva dato tutto ciò che ci occorre adesso per superarle e per essere in grado di saper discernere. Ed è con questa fiducia e fede che è stata fatta questa ricerca. Nel video la mia voce leggerà i miei commenti, la voce di Maria Cristina Zorzi leggerà i pensieri di Sai Baba o delle Sacre Scritture, e una voce automatica leggerà i pensieri di colui che si definisce corpo sottile di Sai Baba. Nelle informazioni sotto il video sarà indicato il link dove poter leggere e scaricare il testo, e i miei commenti nel testo avranno un carattere diverso dai pensieri di Sai Baba e dei testi sacri. In questo capitolo in particolare verranno date risposte alle affermazioni di colui che si proclama corpo sottile di Sai Baba direttamente dalla forma divina di Sai Baba. Alcuni degli argomenti trattati saranno poi approfonditi nei prossimi capitoli. Tutte le prove che dimostrano le affermazioni di colui che si proclama corpo sottile di Sai Baba sono state da me raccolte e conservate per poter dimostrare la veridicità delle mie affermazioni, ma per un problema di privacy non possono essere pubblicate. Nel video sarà comunque visibile il link dove poterle ricercare. Purtroppo alcune prove sono state cancellate dai rispettivi siti internet e per quelle la ricerca non potrà essere fatta, ma rimangono comunque prove valide perché documentate tramite le mie foto. Per evitare che l'ascolto di brevi pensieri non in amore possa danneggiare gli ascoltatori, è stato scelto come sottofondo musicale di quei brani il canto della OM. Ringrazio per tutti i contributi ricevuti nel portare avanti questa ricerca. Con la speranza che questo video possa risvegliare qualche coscienza intrappolata dal falso amore, lo offro ai divini piedi di loto di Shrissati a Sai Baba e prego Sai Baba affinché possa aprire i cuori di coloro che sono alla ricerca della verità. Nei video precedenti abbiamo analizzato pensieri, parole e azioni di colui che si proclama corpo sottile di Sai Baba e della sua organizzazione ed abbiamo trovato su molti punti incoerenza e mancanza di unità con l'amore e quindi abbiamo dedotto che non si tratta di Sai Baba ma di un vero e proprio essere demoniaco in quanto sta cercando di ostacolare l'opera di Sai Baba. Con questo video vedremo gli effetti dei suoi insegnamenti di apparente amore di natura demoniaca. Colui che si proclama corpo sottile di Sai Baba chiede ai bambini delle sue scuole e a tutti i presenti di fare un giuramento formale e l'oratore che introduce la promessa dice che essa serve a interiorizzare la necessità di fare della missione lo scopo della vita. Ai bambini di fatto viene chiesto di alzarsi in piedi e viene chiesto di recitare ad alta voce la promessa di fedeltà alla missione e dall'organizzazione di colui che si proclama corpo sottile di Sai Baba che non è Sai Baba e la cui missione e la cui organizzazione non sono in coerenza con gli insegnamenti di amore. Sai Baba ci incitava a fare delle promesse a noi stessi ci spiegava la necessità di cambiare ma non ci obbligava ce lo diceva nei discorsi pubblici e poi continuava con altri argomenti. Inoltre ci ha ricordato che l'incarnazione divina Rama a causa di una promessa incauta di suo padre Dassarata finì in esilio per 14 anni nella foresta. A cosa può condurre una promessa ben più grave perché fatta direttamente ad un essere demoniaco che inganna migliaia di persone per un suo tornaconto personale e che le vuole legare a sé con delle promesse allontanandole da Dio? Un primo effetto se la promessa è stata rivolta avventatamente a colui che si definisce corpo sottile di Sai Baba e dalle istituzioni da lui fatte e non al vero Sai Baba è quella di tentare di imprigionare i bambini nel falso amore di natura demoniaca cercando di impedire loro il vero cammino di amore. Un giuramento di fedeltà a Bhagavan e alla sua missione è stato decretato dal Signore stesso per tutti noi, Suoi figli, per essere come Lui e per diventare Lui. In questo modo è stata scritta una promessa che non è destinata solo agli ex alunni ma tutti la reciteremo per interiorizzare e fare della sua missione lo scopo stesso della nostra vita. Ci alziamo per fare il giuramento. Giuramento Noi bambini di Satya Sai siamo orgogliosi di promettere che praticheremo lo stile di vita Sai del servizio al di sopra di noi stessi e Dio al di sopra di tutti per il benessere del mondo e per la nostra stessa trasformazione. Lo faremo con tutto il nostro cuore e con tutta la nostra forza a causa dell'istruzione basata su valori gratuiti che riceviamo. Sostenendo l'educazione e i nostri fratelli e sorelle nelle nostre istituzioni rispetteremo il codice di condotta degli ex studenti come nostro dovere più sacro e manterremo l'onore delle nostre istituzioni in tutte le situazioni in cui ci impegneremo sul sentiero del Seve e della Sadana in questo viaggio da io a noi e a lui in cui camminiamo insieme come un'unica famiglia di Sai e porteremo gloria alle nostre istituzioni e soprattutto al nostro amato Sai. Colui i cui pensieri, parole e azioni non sono in armonia è un malvagio Sai Baba, discorso divino del 14 aprile 1999 Egli non può essere conquistato con l'erudizione le promesse pompose o i rituali multicolori Abbandonatevi a lui Egli non desidera altro che voi Sai Baba, pensiero del giorno 25 gennaio 2010 Fare una promessa senza considerare le implicazioni in bene o in male e buttandosi a capofitto senza analizzare a fondo ciò che potrebbe accadere può essere molto pericoloso Sai Baba, discorso divino, 24 maggio 2000 In conseguenza di questo suo amore sviscerato per lei Da Sarata Le disse che le avrebbe dato tutto ciò che voleva qualunque cosa gli avesse chiesto Ella gli chiese allora di mandare in esilio Rama e di incoronare Re Barata La lezione che si deve imparare da questa storia è che quando date la vostra parola dovete essere consapevoli di tutte le sue implicazioni perché le promesse fatte senza riflettere conducono a situazioni spiacevoli E ciò perché la parola data va mantenuta Sai Baba, discorso divino, 3 luglio 1994 Continuate il vostro viaggio fino a raggiungere la meta Questo è ciò a cui dovete mirare Questo è il giuramento che dovete fare Se siete decisi in qualcosa rimanete saldi, ben aggrappati ad essa Non mollate la presa finché l'obiettivo non sia raggiunto Se avete espresso un desiderio non arrendetevi finché non venga realizzato Se avete chiesto non gettate la spugna finché non vi sia dato Se avete avuto un'idea non abbandonatela finché il pensiero non si sia trasformato in realtà O Dio, esasperato dalle vostre insistenze, vi benedirà oppure verrete meno per via Dio, che non sa resistere alle vostre insistenze non avrà altra scelta che venirvi incontro Basta solo che chiediate Ma se vi arrendete prima che i vostri desideri siano esauditi non vi state comportando da veri studenti Non è da studenti abbandonare il proposito Il vero studente persegue e ottiene tutto Non abbandona mai il campo Questo è il suo voto e la sua determinazione Incarnazioni dell'amore Conservate con sollecitudine nel vostro cuore tutto ciò che i superiori vi dicono Tutto ciò che potete apprendere dagli altri studenti Tutto ciò che i professori vi insegnano In avvenire il vostro sforzo sarà teso a mettere tutto in pratica Santificatevi in questo modo Siate degli ideali Mettete in pratica e raggiungerete i vostri obiettivi Io vi benedico e auspico per voi tutto ciò E con questo concludo il mio discorso Sai Baba Brindavan, 17 maggio 2000 Incarnazioni dell'amore Se nella vita familiare odierna esistono tanti problemi e tante tribolazioni è perché non abbiamo onorato le promesse assunte alla leggera e non con il cuore a testimone Sai Baba, discorso divino, 2 dicembre 1986 Un altro effetto di questo falso amore è quello di non dare ai bambini una vera base spirituale Non è permesso loro di crescere perché ciò che impara una scuola sui valori umani nelle scuole di colui che si proclama corpo sottile di Sai Baba viene da insegnanti abbagliati dal falso amore diventa falsità e li danneggia Inoltre, colui che si proclama corpo sottile di Sai Baba tramite un post dai suoi seguaci spiega come preparare i figli alla missione di Pre Masai quindi alla missione per stabilizzare l'età del loro sulla Terra Nonostante sembra occuparsi di scuole che dovrebbero insegnare i valori umani in un'occasione ad una specifica domanda ha parlato solo di esempio dei genitori scartando ogni altra cosa L'esempio è sicuramente importante ma è sufficiente? E soprattutto è sufficiente ad aiutare spiritualmente i bambini l'esempio di coloro che si volgono ad un demonio che finge di essere Dio l'esempio quindi di coloro che tradiscono Dio anche se inconsapevolmente come potranno conoscere la luce quei bambini Da Facebook In un Sazen tenuto nella divina presenza di Sai Baba nella sua sottile forma a Londra, Regno Unito il 4 aprile 2016 quando si chiedeva come preparare i bambini per la missione di Pre Masai Ecco cosa ha detto Swami tu ti prepari per la missione di Pre Masai i bambini si prepareranno da soli sii buono, sii trasformato, sii divino seguiranno le tue orme Una persona che ha la padronanza e che vive i principi dei Veda può essere onorata come un pandit un altro può essere elogiato per la sua prosa e i suoi versi ma se tali studiosi non hanno purezza di coscienza né ideali elevati le loro capacità saranno più dannose che buone non aiuteranno né la felicità della gente né la pace della società Sai Baba Pensiero del Giorno non vi è coordinazione fra chi parla l'argomento e la conseguente condotta pertanto invece che Nettare Amrita le loro parole diventano falsità Sai Baba da La vita di Sai Baba di Casturi La madre deve insegnare ai figli della ripetizione del nome di Dio e della pulizia mentale e fisica dovrebbe essere simile alla madre descritta in una storia narrata da Vivekananda la quale esortava il figlio ad invocare Krishna quando andava a scuola da solo e doveva attraversare il bosco Sai Baba Discorso Divino 9 settembre 1958 Insegnate ai bambini cose sacre e non versi senza senso nell'antichità le prime parole insegnate ad un bambino erano Omnama Shivaya ciò che dovrebbe essere piantato nei cuori dei nostri figli sono nomi sacri come Rama e Krishna Sai Baba Sanatana Sarati dicembre 1996 Se non teniamo sotto controllo i nostri figli chi potrà mai farlo? I genitori devono controllarli a secondo della loro età dobbiamo correggere e modellare il carattere dei figli affinché siano in grado di sostenere il giusto tipo di rispetto e onore per la famiglia Sai Baba Discorso Divino 4 ottobre 2000 I figli d'oggi non mostrano interesse a leggere i sacri testi del Ramayana o del Mahabharata Leggono ogni genere di spazzatura e partono col piede sbagliato fin dalla loro fanciullezza Se la tenera pianticella cresce dritta anche l'albero sarà dritto ma se cresce ricurva anche l'albero sarà ricurvo Quindi amate i vostri figli ma date loro una severa punizione se fanno qualcosa di sbagliato Sai Baba Discorso Divino 19 novembre 1995 Un altro effetto degli insegnamenti di questo falsa amore è l'accrescimento dell'ego Infatti colui che si proclama corpo sottile di Sai Baba dice che ci vuole maggiore purezza nel percepire Sai Baba e nel credere in Sai Baba nel corpo sottile Questo significa che i seguaci di colui che si definisce corpo sottile di Sai Baba sono già alla sesta classe perché credono in lui mentre chi non crede in lui è rimasto alla prima classe è rimasto cioè a ciò che è stato insegnato dalla forma fisica divina di Sai Baba di Putta Parti e non è cresciuto oltre In realtà il vero Sai Baba ci ricorda che essere attratti dal male e quindi dal falso amore e quindi da persone che fingono di essere lui equivale a tradire se stessi e ciò non è indice di maggiore purezza Infatti quando si è attratti da persone che ci ingannano è perché almeno una parte di noi è simile a loro e quindi manca di purezza Prima ero nel corpo fisico ora sono nel corpo sottile Era facile credere quando ero nel corpo fisico ora è richiesta una maggiore purezza per percepire e credermi nel corpo sottile Ecco un esempio Quando i bambini sono nella prima classe l'insegnante dice loro il sole sorge ad oriente e tramonta in occidente I bambini lo credono e possono anche vederlo accadere ogni mattina e sera Questo rende facile credere a ciò che dice il loro insegnante Quando gli stessi bambini vanno alla sesta classe il loro insegnante dice loro il sole non sorge né tramonta Il sole è immobile e la terra ruota sul proprio asse e ruota intorno al sole il che fa sì che giorno e notte si verifichino I bambini crederanno anche se non possono vedere ciò che dice l'insegnante Mi avete creduto quando ero nel corpo fisico allora eravate nella prima classe Ora dovete crescere fino al livello degli studenti della sesta classe per credere in me nel corpo sottile Da Sai Brinda Quei giorni nei quali tutti potevano camminare al mio fianco sono finiti A quel tempo mi sono reso disponibile a tutti Ora solo coloro che hanno la purezza della mente possono venire di sopra a incontrarmi nella mia stanza Ci sono certi guru che nutrono moltissimo amore anche verso i loro discepoli Quando gli aspiranti discepoli vanno da loro per avere una guida essi li portano al settimo cielo Esagerano i loro successi e concedono loro dei titoli che vengono ostentati dalle sfortunate vittime In questo modo i discepoli vengono gravati di ulteriori impedimenti al progresso spirituale È tempo di smascherare e punire questi sadhu anime nobili e questo sarà uno dei compiti del ripristino della rettitudine per cui sono venuto Sai Baba, discorso divino, 29 settembre 1960 Come mi dai Ananda? Prendendo a cuore ciò che dico e mettendolo nella pratica quotidiana Decidere di elevarsi rimanendo però attratti da ciò che è inferiore equivale a tradire se stessi Migliorate il carattere e la condotta Quando i vostri sentimenti saranno nobili e i vostri impulsi purificati allora potrete vedere la mia forma nella sua realtà Sai Baba, discorso divino, 29 settembre 1960 L'imitazione è solo umana ma la creazione è divina Chi cerca di diventare come Sai Baba ricorrendo a grottesche imitazioni distrugge soltanto la fede che la gente ha nel divino Essi sono parassiti velenosi che compromettono la pace e l'armonia della società e raccolgono intorno a sé insetti della loro stessa natura Poiché ogni simile attrae suo simile Questi impostori rovinano loro stessi e causano la rovina della società in cui operano Sai Baba, discorso divino, 14 gennaio 1973 Un ulteriore effetto del seguire questo falso amore è il correre dietro alla propria mente e ai propri desideri credendo però di seguire il cuore e chiudendosi di fatto al discernimento Infatti molti seguaci di colui che si proclama corpo sottile di Sai Baba sono decise a seguire il proprio cuore, il Dharma più elevato, il Dharma del cuore e fanno scelte di vita importanti senza accettare alcun consiglio senza ragionare sulle proprie scelte pensando di seguire il cuore abbagliati però dal falso amore come in un miraggio e abbagliati dai desideri di una mente che inconsciamente li porta alla tenebra Infatti, gli insegnamenti di colui che si definisce corpo sottile di Sai Baba insistono sul Dharma del cuore e sulla propria esperienza personale a cui nessuno può obiettare e contemporaneamente Narasimha Murthy, ai vertici della sua organizzazione ci invita a far zittire il cervello perché ciò che accade con colui che si proclama corpo sottile di Sai Baba è al di là della logica Questo significa in altri termini mettere da parte l'intelletto e accettare colui che si proclama corpo sottile di Sai Baba senza aver prima usato il discernimento che ci viene dall'intelletto e significa seguire tutto ciò che viene da un cuore non purificato che è attratto dal falso amore di natura demoniaca Sai Baba però è stato chiaro e ci ha detto che senza l'uso dell'intelletto con cui riflettere e discernere ciò che è bene da ciò che è male rischiamo di rovinare la nostra vita Il Dharma del cuore è piena e costante consapevolezza che significa contatto col proprio sé superiore e non con demoni che vogliono prendere il posto di Dio né con il proprio cuore oscurato da una mente attratta dal falso amore demoniaco che trascina verso la tenebra anche a nostra totale insaputa Seguire il Dharma del cuore significa seguire la propria coscienza che viene direttamente dal cuore che giunge a noi grazie ad un cuore purificato Ma coloro che sentono attrazione per il falso amore non hanno un cuore purificato e quindi non sono ancora in grado di riconoscere bene i dettami della coscienza hanno ancora bisogno di discernere con l'intelletto non solo ciò che sentono provenire dal cuore ma anche tutte le loro esperienze interiori altrimenti rischiano di rovinare la propria vita finendo per vivere in un miraggio Da Sai Brinda apri il tuo cuore per sperimentare la divinità di Narasimha Murji Potresti chiedere perché le 30 scuole in ciascuno dei distretti del Karnataka Bene, perché il Karnataka ha la grande fortuna di ospitare il terzo avatar della serie dei Sai Avatar Premasai Egli sta per venire nel campus di Mandia che Suami ha istituito Una volta gli aveva spiegato Sto facendo tutto questo per Premasai Questa forma sottile Fino al 2022 è la transizione tra la forma fisica di Satya Sai e la forma fisica di Premasai Questo è tutto molto nuovo per molti di noi Allora, come possiamo capire tutto questo? C'è solo un modo Apri il tuo cuore Fai zittire la tua logica Fai zittire il tuo cervello Perché? Perché tutto ciò è al di là della logica Una cosa del genere non è mai accaduta prima Non c'è un precedente Fai zittire il tuo cervello Proprio come nessuno può mangiare per voi Respirare per voi O dormire per voi Nessuno può dirvi dov'è Suami e dove non lo è È la vostra esperienza È la vostra comprensione che ne sarà testimone Dovete capire e sperimentare voi stessi per conoscere la verità E la verità da sola vi libererà da tutta la paura dell'ignoranza Il dovere, il dharma di tutti gli esseri umani è seguire il comando che viene dal cuore Nella mente ci sono le debolezze di io e mio La mente cerca sempre di inseguire scopi egoistici perché crede di essere sia il corpo che la mente Ma il cuore ci parla sempre dell'amore altruistico e del servizio disinteressato Quando cercate Dio non dovete essere deviati verso scorciatoie e miraggi Dopo l'oro il ricercatore deve gettare via l'ottone e gli altri metalli gialli che possono distrarlo E a volte anche distruggerlo Come il fiume che scavalca e precipizi si insinua attraverso cespuglie e rovi Scorre sulle colline Filtra attraverso la sabbia Ma tiene sempre in vista la meta, il mare Anche l'uomo deve avanzare instancabilmente verso Dio Sai Baba, discorso divino, del 19 agosto 1968 Non obbedite né alla mente né al corpo Seguite la vostra coscienza Questo è il vostro obiettivo È il vostro principio atmico Seguite la vostra coscienza e andate avanti Sai Baba, discorso divino, 17 aprile 1998 Che aspetto ha l'atma? La sua forma è quella della coscienza Dunque Ishvara non ha forma specifica Ma non è altro che il principio della coscienza A cui è stato dato quel nome È dalla coscienza che si giunge alla consapevolezza Dalla coscienza si arriva al cuore Sai Baba, discorso divino, 16 maggio 2000 Virtù e vizi sono semplici riflessi dei nostri pensieri Buoni o cattivi Il cuore è la sorgente di tutti questi riflessi Il vostro cuore è pieno di negatività Dunque la prima cosa da fare è purificare il vostro cuore Non si tratta del cuore fisico Questo si trova nel lato sinistro del petto Il cuore spirituale è collocato nel lato destro Questo cuore spirituale del lato destro Si muove nella direzione della rettitudine Sai Baba, discorso divino, 16 aprile 1998 Purificate il cuore e fatene uno specchio pulito In modo che il Signore possa esserci riflesso nel suo splendore E nella sua grandezza totali I desideri che si attaccano alla mente Sono macchie che offuscano la consapevolezza interiore Sai Baba, pensiero del giorno, 23 ottobre 2016 Non seguite la mente Non seguite il corpo Seguite la coscienza Ciò significa che dovete seguire solo l'atma Così saprete riconoscere il giusto sentiero Che cos'è il Dharma del cuore? È piena e costante consapevolezza Mentre tutti i Dharma Che sono in relazione con il corpo e con le facoltà mentali Si riferiscono al mondo materiale Sai Baba, discorso divino, 26 ottobre 2001 Prajnanam Brahma La consapevolezza piena è costante È Brahman Sai Baba, discorso divino, 25 ottobre 2004 Yashoda scoprì che egli, Krishna, era il Signore Solo quando si accorse che qualunque corda usasse Era troppo corta per fare il giro del suo ventre Parimenti, anche voi riuscite a convincervi Solo quando realizzerete che ogni descrizione del mio Mahima Azioni volte a dimostrare la grandezza di Dio È sempre un poco più corta della realtà Nel frattempo, con lo studio dei Sastra E conoscendo le caratteristiche dell'avatar del Signore Potrete gettare una rapida occhiata sulla mia verità Ovviamente dovete abbandonare tutto il male che c'è in voi Prima di poter valutare il mistero Sai Baba, discorso divino, 23 febbraio 1958 La Buddhi, intelletto, ha la capacità di distinguere Tra l'effimero e l'eterno E l'essere umano può seguire la via giusta Solamente quando analizza usando il potere dell'intelletto Sai Baba, discorso divino, 28 agosto 1996 Io sono venuto per correggere le carenze del Buddhi, intelletto Mio compito è consigliare, aiutare, imporre, condannare, soccorrere tutti come un amico portatore di bene Perché l'uomo sappia rinunciare alle tentazioni del demonio e, riconoscendo nel marchio, calpestarlo Sai Baba, discorso divino, 23 novembre 1968 Per me tutti sono buoni, non ci sono persone cattive Tuttavia coloro che sviluppano sentimenti negativi, terreni e continuano a vivere senza indagare Su quanto è bene e su quanto è male, rovineranno la propria vita Sai Baba, discorso divino, 4 novembre 2002 Tra i servizi che vengono fatti nel nome di colui che si proclama corpo sottile di Sai Baba Ed è la sua organizzazione La quale, ricordo, come abbiamo visto nel video precedente Si è appropriata, oltre del sacro nome di Sai Baba Anche di una proprietà di Sai Baba Togliendo l'altrasse dell'organizzazione Sri Satyassai con un atto di infedeltà C'è anche il progetto colazione per i bimbi indigenti Grazie ad annunci per eventuali offerte pubbliche di denaro Fatte nel nome di Sai Baba Ed anche ad inviti espliciti E ad offerte spontanee rubate con l'inganno Che dietro l'organizzazione di colui che si definisce corpo sottile di Sai Baba Ci sia veramente Sai Baba Molte colazioni vengono preparate ogni giorno Dai seguaci di colui che si proclama corpo sottile di Sai Baba In modo che i bimbi poveri non siano affamati quando vanno a scuola Sembra comunque un progetto bellissimo E il corpo di questi bimbi certamente beneficerà sul momento delle colazioni Ma vediamo cosa mangiano questi bimbi a livello sottile Considerando la provenienza delle donazioni E considerando che a preparare loro la colazione sono i seguaci di un demonio Anche qui c'è un attentato Molto ben mascherato Alla salute spirituale dei bambini E non solo Anche alla loro salute fisica Da Sai Brinda Il programma Napurna Breakfast è stato avviato nel luglio 2012 Per offrire una colazione nutriente, gratuita, a bambini svantaggiati nella periferia di Bancalore Per cominciare I volontari servivano alla colazione ogni mattina ai bambini di una piccola scuola del villaggio di Doddabelle E in pochissimo tempo si è notato che la frequenza dei bambini nella scuola è migliorata Gli intervalli di attenzione sono aumentati e il loro quoziente complessivo di felicità è aumentato Motivati dai risultati, sono state adottate più scuole E quello che è iniziato come un'iniziativa di servizio a beneficio di circa 50 bambini nel 2012 E' cresciuto fino ad abbracciare più di 20.000 bambini in 249 centri in 8 stati indiani Più di 2 milioni di colazioni sono state servite fino alla data Da Impat Guru, Annapurna Annapurna è stata riconosciuta da diversi enti per il lavoro esemplare nel campo della nutrizione Anche l'associazione Annapurna è stata sottoposta ad un controllo sociale Ogni rupia spesa per Annapurna porta ad un valore di 1,89 rupie di rendimento sociale Unisciti al movimento Annapurna Nutrizione Non lasciare che nessun bambino vada mai affamato a scuola Ogni condivisione sui social media può portare ad un guadagno di 80 dollari Condividi su Facebook Non è questo il peggior tradimento contro Swami? Loro sono tutti traditori di Dio Bhagavan non accetterà mai, né approverà mai la raccolta di denaro o il suo nome Supplicate se volete, ma non usate mai il nome di Swami per raccogliere fondi Queste persone non hanno quel tipo di devozione e sincerità Ma agiscono come se avessero devozione e fede Estratto del discorso divino del 22 luglio 2002 Con una traduzione immediata di Anil Kumar Vivere del denaro guadagnato in modo disonesto è causa di malattia Utilizzare dei guadagni pervenuti in modo ingiusto Provoca l'instaurarsi di molte malattie sconosciute Che mettono radici dentro di voi Sai Baba pensiero del giorno 22 giugno 2003 Non basta però che gli alimenti siano puri e di buona qualità Devono anche essere stati procurati con mezzi onesti Infatti se venisse usato per il proprio mantenimento Denaro guadagnato illecitamente Il cibo sarebbe contaminato fin dall'origine La cuoca mentre cucina non dovrebbe nutrire sentimenti di odio Di collera, di preoccupazione o di indifferenza Ma essere pulita e di buon umore L'aspirante spirituale deve fare molta attenzione a queste regole Altrimenti l'influenza sottile dei pensieri impuri Del cuoco e dei camerieri Verranno a tormentarlo durante la meditazione Sai Baba La disciplina spirituale Pagina 172-12 Il cibo dovrebbe essere puro Solo in tal caso ci sarà una mente pura Com'è il cibo, così è la mente Sai Baba, discorso divino 13 ottobre 2002 Gli alimenti assunti dall'uomo Dal punto di vista grossolano Vengono espulsi sotto forma di escrementi Dal punto di vista sottile invece Si trasformano in sangue E da un punto di vista ancora più sottile Si traducono nella sostanza mentale dell'uomo La mente perciò dipende dal genere di cibi che si assumono La causa dei sentimenti demoniaci Che di questi tempi si manifestano È il cibo assunto Mancano pazienza, perseveranza, amore e compassione Si hanno soltanto idee diaboliche Per tutto questo la causa principale Va ricercata negli alimenti Il cibo perciò deve essere puro e sacro Sai Baba Prashantini La Yamma 21 novembre 1988 In una prigione c'era una volta Un uomo molto puro e devoto agli ideali spirituali Che seguiva attentamente una disciplina spirituale E aveva progredito molto nella meditazione e nella concentrazione Un giorno quando sedette per meditare Sentì sorgere dentro di sé delle emozioni terribili E fu sconvolto dallo scoprire che a dispetto del suo sforzo tremendo Non poteva eliminare i pensieri di odio e assassino che lo possedevano Egli tremava in agonia e anche il suo guru fu impressionato dal manifestarsi di quegli eventi Per cui indagò profondamente nella storia del discepolo Senza trovare una ragione valida per questa tragedia Poi scoprì che un assassino fanatico Aveva lavorato da cuoco nella cucina della prigione Il giorno precedente a quella disgrazia E che i suoi pensieri di odio Avevano impregnato il cibo che cucinava Le forme pensiero sottili e invisibili possono passare da una persona a un'altra in questo modo Sai Baba pensiero del giorno 15 febbraio 2019 Un ulteriore effetto degli insegnamenti di apparente amore di natura demoniaca E' il mescolarsi di devoti della luce con seguaci della tenebra In nome di un falso concetto di unità In modo tale che i devoti della luce si ritrovino accanto persone non spirituali Che hanno scelto un cammino di tenebra sia pure senza saperlo Quindi persone con qualità in grado di attrarre la tenebra Ed essere attratte dalla tenebra I devoti di Dio si ritrovano così accanto a cattive compagnie Cattive perché non possono indurre in loro pensieri nobili né elevarli Ma che invece sono in grado di distruggere la loro fede E la fede di chi adora Dio in qualsiasi sua forma Infatti, colui che si proclama corpo sottile di Sai Baba Incita i suoi devoti a riunirsi con i devoti di fede rivolta all'amore Perché Dio è uno Peccato però che i suoi seguaci non siano devoti dell'amore Ma seguaci per lo più inconsapevoli del male profondo Del falso amore di natura demoniaca che tradisce Dio Che si oppone a Dio e cerca di farsi Dio al posto suo Queste persone non sono di spirito affine ai devoti della luce E vanno invece evitate accuratamente Perché sono in grado di distruggere la santità della vita Sai Baba ci incoraggia a giungere alla divinità E ci dice che per riuscire dobbiamo seguire il sentiero dell'unità Dobbiamo cioè vedere lo stesso Dio incarnato in ogni essere vivente Ma aggiunge anche che ci occorre saper discernere ciò che è giusto da ciò che è sbagliato E ci dice anche che nonostante l'atma sia uno in tutti In questo nostro mondo esistono le cattive compagnie E dobbiamo starne lontani per non rovinare il nostro cammino spirituale Evidentemente il nostro lavoro interiore è duplice E consiste nel tenere sempre in mente e nel cuore Il fatto che tutto è uno e tutti sono incarnazioni di Dio Ma nella vita pratica è diverso E consiste nel discernere e allontanare da noi ciò che è male E le cattive compagnie E unirci unicamente con compagnie buone e spirituali Da Sai Brinda Reso conto della visita del marzo 2018 in Giappone Suami ha fatto cenno al fratello Genzo Machino di pronunciare alcune parole sul futuro Ashram Suami ha poi detto che la visione dell'Ashram sarà quella di diventare un centro spirituale di tutte le fedi e tutte le credenze Questo centro dovrebbe essere dedicato all'unità fondamentale di tutta la diversità che esiste Pertanto, questo dovrebbe essere un percorso interiore Non un percorso verso l'esterno Quando l'uomo va verso l'interno conosce la verità Ma quando va verso l'esterno si confonde Questa diventerà una casa universale di amore e pace Per Youtube Estratto dal discorso del 2018 di colui che si proclama corpo sottile di Sai Baba ad Assisi Italia Siamo tutti qui, in questa terra benedetta Perché la vita di sacrificio di queste persone ha santificato tutto ciò che è qui L'acqua, la terra Tutto ciò che esiste Adesso ho un piccolo Ashram che è stato istituito nelle montagne qui dietro Questa regola dovrebbe essere seguita Ogni persona che viene all'Ashram deve andare da San Francesco, Santa Chiara Essere ispirato e poi ritornare a casa Questa deve essere una regola che deve essere seguita Le altre sono quelle del nostro Ashram così come tutti gli Ashram Avete visitato tutti i posti sacri Quelli che non l'hanno fatto devono andarli a vedere È importante, c'è tanta purezza e spiritualità qui E solo quello attrae Dio Questo è un luogo puro Ogni tre mesi i nostri giovani dell'Italia e chi si può unire deve incontrarsi qui Dio è presente in tutti gli esseri viventi Egli è presente in tutto l'universo L'universo è la manifestazione dell'unico Dio La verità è una Possiamo giungere alla divinità seguendo il sentiero dell'unità Allora in questa vita conosceremo la pace Per giungere allo stato di pienezza Bisognerebbe saper discernere tra ciò che è giusto e ciò che è sbagliato Chiedetevi, sto andando nella giusta direzione? Il mio sentiero è sacro? Non faccio torto a nessuno? Sai Baba, estratto dal discorso divino, 18 aprile 1998 L'unità è indispensabile Di che unità si tratta? Si tratta di avere unione su tutto ciò che è buono È essenziale essere unichi nello sviluppo di buoni progetti Fate in modo di stare alla larga dalle cattive qualità Fra persone che hanno cattive qualità Non è utile che si stabilisca un rapporto di amicizia Perché distruggerebbero la santità della vita Sai Baba, discorso divino, 31 agosto 1992 L'imitazione è solo umana Ma la creazione è divina Chi cerca di diventare come Sai Baba Ricorrendo a grottesche imitazioni Distrugge soltanto la fede che la gente ha nel divino Essi sono parassiti velenosi Che compromettono la pace e l'armonia della società E raccolgono intorno a sé insetti della loro stessa natura Poiché ogni simile attrae il suo simile Questi impostori rovinano loro stessi E causano la rovina della società in cui operano Sai Baba, discorso divino, 14 gennaio 1973 Nonna, sprecate tempo, denaro ed energie Correndo dietro a falsi guru Raggiungete Dio con mente stabile e fede unidirezionale Sai Baba Prashantinila, Iam 20 luglio 1996 Il valore dei luoghi santi, dei pellegrinaggi sacri, eccetera Consiste proprio in questo Che dagli spiriti affini si riuniscono e contribuiscono a costituire il valore dell'anelito spirituale In tali luoghi potete consultarvi l'uno con l'altro Ricevendo dolce e reciproco sostegno E rinforzare la vostra fede e la vostra devozione Se in alcuni luoghi non trovate una tale atmosfera Evitateli e spostatevi in altri Fino a quando non ne troverete uno con queste caratteristiche Sai Baba, pensiero del giorno, 7 settembre 2003 Se qualcuno vi dice qualcosa che va contro la morale Contro il vostro stesso modo di pensare Fate in maniera di lasciare quella compagnia Quando sentite qualcosa di negativo che va contro i vostri principi Abbandonate quel luogo Se rimanete ad ascoltare discorsi negativi La vostra mente si inquina Sai Baba, discorso divino, 5 agosto 1998 I centri Sai devono riflettere i caratteri distintivi della nostra organizzazione Non possono essere un guazzabuglio di centri satya Sai Baba Con tanti guru e tante vie spirituali Noi abbiamo la nostra meta e Suami ha indicato la via Che dobbiamo seguire con quieta sincerità e devozione Sai Baba, colloqui, 14 Ci sono tante altre associazioni fondate e dirette da Suami di vario genere Se tra noi c'è qualcuno che vi si associa Invito i presidenti di Stato e di distretto Ad allontanare immediatamente queste persone La gente può venerare chi preferisce Ma nell'organizzazione non devono esserci uomini di duplice fedeltà Soltanto chi ha fede e devozione per questo nome e questa forma Può operare per realizzarne gli obiettivi con entusiasmo Sai Baba, discorso divino, 21 novembre 1970 Esiste un'altra serie di persone che traggono profitto dalla vostra fede Esse diffondono la notizia che io parlo attraverso un medium o qualche altro mezzo Trattate tutte queste persone e loro emissari o intermediari Come trattereste degli imbroglioni Se non li trattate così Allora siete complici di tale inganno Sai Baba Tratto da www.sathiasai.it Voi siete fortunati ad aver scelto il sentiero spirituale Non sciupate questa opportunità Frequentando cattive compagnie Il detto dimmi con chi vai ti dirò chi sei Significa che si diventa uguale alle persone alle quali ci si associa Il bene e il male nel mondo hanno come base la condotta dell'uomo Che è fondata sui suoi pensieri I pensieri a loro volta sono basati sui desideri E i desideri dipendono dalle compagnie che si frequentano Quindi frequentate buone compagnie Esse vi elevano e inducono in voi pensieri nobili Che rappresentano la strada regolare verso la divinità Sai Baba pensiero del giorno 21 gennaio 2002 Gli effetti della falsità e dell'inganno Di quelui che si definisce corpo sottile di Sai Baba Chiudono le porte al discernimento sotto tutti i punti di vista E di conseguenza aprono le porte al male E al falso e apparente amore di natura demoniaca Impediscono ai bambini di crescere nell'amore Perché si dà loro l'esempio di qualcuno Che è stato abbagliato da un miraggio E deviato dalla via dell'amore Danno ai bambini insegnamenti falsi Anche quando apparentemente veri Perché caricati di falsità Danno ai bambini cibo contaminato sin dall'origine Affinché sviluppino molte malattie e qualità negative Cercano di legare i bambini e i fedeli Attraverso delle promesse alla tenebra Mettono in stretto contatto i devoti di Dio Con coloro che sono in grado di distruggere la loro fede E tentano infine di influire energeticamente Su tutta la terra Tramite la creazione di un mandala Di centri energetici e di falsi ashram Ma di che energia si tratta? Si tratta di energia satanica Perché non può che essere satanico Il progetto di un essere malvagio Che sta tentando di mettersi al posto di Dio E che sta tentando di fermare Il proposito di Dio Di portare l'età del loro La Bhagavad Gita ci parla di uomini demoniaci Interessati ad opere sacrileghe E quale opera è più sacrilega Di quella di mettersi al posto di Dio Abusare del suo sacro nome E farsi adorare al posto suo? La Sacra Bibbia invece ci parla Dell'uomo dell'iniquità Del figlio della perdizione Che vuole essere adorato come Dio L'Anticristo E a conferma Satanico è il segnale Che ci ha trasmesso Tigret Il 23 novembre 2018 Facendosi fotografare con in mano Un libro girato al contrario Cioè con la foto di Sai Baba rovesciata Sicuramente ha fatto questo gesto inconsapevolmente Ma forse la sua anima Ci voleva mandare un messaggio Un avvertimento Facendosi non possiamo permettere che un giuda moderno finga di essere saibaba e progetti di inficiare anche l'opera della prossima incarnazione divina premasai creando tante scuole proprio nella zona in cui crescerà premasai in modo da far crescere i bambini sordi alla vera luce divina allo scopo di impedire loro di riconoscerla e indicando un bambino di sei anni come la prossima incarnazione divina di premasai e che madu sudan dovrà istruire fino a che colui che si definisce corpo sottile di saibaba non si rifletterà nel corpo del bambino colui che si definisce corpo sottile di saibaba ha già detto che premasai sarà silenzioso e parlerà solo attraverso i cuori con l'evidente intenzione di continuare la commedia con un falso premasai che starà in silenzio perché in silenzio non c'è pericolo di sbagliare e con l'evidente intenzione di cambiare il futuro meraviglioso che ci attende e che attende alla nostra terra l'età del loro profetizzata da saibaba infatti ad essere più colpiti da colui che si proclama corpo sottile di saibaba sono proprio i bambini perché il futuro spetta a loro saibaba non lo permetterà ci ha fatto una promessa formale e non mancherà di realizzarla ma ci chiede di fare la nostra parte per la restaurazione del dharma sta a noi adesso schierarci dalla parte di dio e divenire i suoi strumenti non solo seguendo le sue orme aderendo alla verità e all'ordine morale ma anche opponendoci al male e al falso amore e allontanandoli da noi e dalle nostre vite da saibbrinda annuncio fatto dal cantante sammet tato durante i festeggiamenti del 23 novembre 2018 suami ha assunto il corpo di madu sudan non c'è differenza ha fatto la gran dichiarazione qualche minuto fa che sarà a muddenalli nel corpo del fratello madu sudan per i prossimi dieci anni a guidarci e benedirci quando vedete madu sarà come vedere bhagavarsri satya saibaba da saibbrinda apri il tuo cuore per sperimentare la divinità di narasimamurji potresti chiedere perché le trenta scuole in ciascuno dei distretti del karnataka bene perché il karnataka ha la grande fortuna di ospitare il terzo avatar nella serie di avatar sai prema sai da facebook sai brinda ovviamente prema sai sarà nella forma fisica e darà il darshan seduto proprio di fronte a noi ma non potremo comunicare con lui attraverso le nostre labbra con le parole quindi la comunicazione avverrà ad un livello più profondo di pensiero o forse anche oltre perché ci sono quattro tipi di linguaggi secondo quello che ho saputo da suami dal 2012 prema sai ora sei anni dobbiamo aspettare altri sei anni circa e lo vedremo qui sono anche emozionato perché anche io non so come sarà stare con lui suami ha detto che devo stare con lui e addestrarlo non so come addestrare dio stavo analizzando il modo in cui i lama nella cultura tibetana vengono trovati e addestrati da facebook sai brinda suami ha detto guarda questo ashram e tutti gli ashram che sto istituendo stanno tutti formando un mandala sto formando un mandala attorno a questa terra cosa sono questi? questi sono centri di energia e questi centri energetici si connetteranno tra loro e formeranno una sfera di energia attorno alla terra ed eleveranno la coscienza delle persone coloro che entrano in questa sfera di energia questo cerchio di energia subiranno una sorta di cambiamento spirituale gli uomini demoniaci abbandonandosi all'insaziabile desiderio pieni di ipocrisia, di orgoglio e arroganza fissi nelle false idee a causa dell'illusione essi si dedicano ad opere sacrileghe Bhagavad Gita della missione Saccitananda di padre Anthony capitolo 16 versetto 10 coloro che cercano di frapporre ostacoli a qualsiasi opera benedetta non sono assolutamente degli esseri umani bensì dei veri demoni quando anche il mondo intero si riempisse di simili demoni il piano di Sai non subirà mai alcuna modifica Sai Baba discorso divino Brindavan 25 dicembre 2000 Nessuno vi inganni in alcun modo prima, infatti, verrà l'apostasia e si rivelerà l'uomo dell'iniquità il figlio della perdizione l'avversario colui che si innalza sopra ogni essere chiamato e adorato come Dio fino a insediarsi nel Tempio di Dio pretendendo di essere Dio La venuta del Lempio avverrà nella potenza di Satana con ogni specie di miracoli e segni e prodigi menzogneri e con tutte le seduzioni dell'iniquità a danno di quelli che vanno in rovina perché non accolsevo l'amore della verità per essere salvati Sacra Bibbia 2 Tessalodicesi Capitolo 2 3 4 9 12 Avete la possibilità di osservare me e le mie attività guardate come mi attengo alla rettitudine all'ordine morale alla verità e compassione universale questo io voglio che apprendiate da me ebbene la mia vita è il mio messaggio Sai Baba discorso divino 17 maggio 1968 non dobbiamo dunque unirci alle cattive compagnie neppure per un momento infatti nell'antichità la gente prendeva le distanze dai demoni e dai comportamenti demoniaci Sai Baba discorso divino 24 novembre 2002 ci sono tante altre associazioni fondate e dirette da suami di vario genere se tra noi c'è qualcuno che vi si associa invito i presidenti di stato o di distretto ad allontanare immediatamente queste persone Sai Baba discorso divino 21 novembre 1970 Dio si incarna per il ripristino del Dharma che include la moralità, la verità, l'amore e una moltitudine di altre qualità che sostengono l'individuo e la comunità il divino punisce coloro che non si oppongono o restano passivi mentre vengono perpetrate delle ingiustizie o vengono compiuti dai crimini non reagire in circostanze simili significa macchiarsi della stessa colpa è solo quando opponiamo resistenza alle ingiustizie e alle azioni non rette e cerchiamo di estirpare il malcostume nella società che possiamo dichiarare di partecipare alla restaurazione del Dharma Sai Baba pensiero del giorno del 16 febbraio 2004 Potete dire che la persona che vi è vicina sta commettendo una malvagità mentre voi non state facendo niente di male state guardando l'altro che fa il male come spettatore inerte quindi ne subirete la metà della colpa Sai Baba discorso divino 31 luglio 1996 Molti esitano a credere che i destini dell'uomo si eleveranno che una gioia esaltante verrà ad illuminare il mondo rivelando una nuova età del loro riceverete dalle mie mani la certezza che questo corpo divino non è venuto in vano e riuscirà a sovvertire la crisi in cui versa l'umanità Sai Baba discorso divino 23 novembre 1968 Voi siete tutti in me Questa è la verità fondamentale Io realizzo alcune cose utilizzando voi come miei strumenti Infatti ho bisogno di strumenti per portare avanti la mia missione Per questo vi sto plasmando come tali impartendo educazione, conoscenza e saggezza Io vi sto facendo sviluppare tutti come miei strumenti Sai Baba discorso divino 26 dicembre 2007 Io scelgo di trovare Sai Baba nel mio cuore e di essere un suo strumento E tu? Scrivovi ai nostri tuoi Hay This is my way, this is my move. My life is my message, expansion is my life. My life is my message, expansion is my life. No vision for love, no season for love. No season for love, no season for love. No birth, no death, no birth, no death. Love is my form, truth is my breath, bliss is my hope. La verità è la forma, la verità è la forma, la verità è la forma. La verità è la forma, la verità è la forma, la verità è la forma. La verità è la forma, 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 la verità è la forma. La verità è la forma.